In tempo di giubileo, la diocesi di Somonavalva punta a realizzare Casa Zaccheo, una struttura per accogliere persone, è stato di bisogno. Si tratta di uno spazio da mettere a disposizione non solo per coloro che non hanno fissa dimora, ma anche per chi si ritrova a vivere un momento di necessità. L'annuncio è arrivato direttamente dal Vescovo Angelo Spina, prima nella rubrica sociale di Onda TV Un Occhio per Tutti e poi domenica scorsa in cattedrale, in occasione dell'apertura della Porta Santa che ha dato il via al giubileo della misericordia. L'opera sarà edificata nel 2016 grazie a un contributo di 500.000 euro stanziato dalla CEI, Conferenza Episcopale Italiana, che ha esaminato il progetto presentato dalla Caritas diocesana di Somonavalva. La somma restante sarà raccolta nel territorio di Cesano. Vogliamo porre l'attenzione sull'uomo con le opere di misericordia corporali e spirituali, spiega il Vescovo Angelo Spina, che si affida anche alla generosità dei fedeli per mettere in piedi l'edificio. Un edificio che non ha stabilità, quindi bisogna abbatterlo e ricostruirlo. Io mi sono regato a Roma dalla Caritas nazionale e ho ricevuto la promessa di un contributo di 500.000 euro. Bisogna metterci l'altra metà. Da dove verrà questa metà? Ma certamente in quest'anno giubilare, chiunque vuole, chi vuole dare la sua generosità, questo è il progetto che la diocesi porterà avanti, che non sarà mettere in piedi una struttura muraria, ma una casa che accoglie, chi dorme fuori, chi è che ha dei permessi e non sa dove andare, chi a volte ha dei familiari in ospedale e non ha una somma sufficiente per poter pagare un albergo. Quindi è una casa dove ognuno si deve sentire a casa, perché Gesù ha detto ero forestiero e mi avete ospitato. E questo per noi è importante. Ci sono sette opere di misericordia corporali e sette opere di misericordia spirituale e noi non possiamo vivere un anno giubilare disattendendo tutto ciò che vediamo nella società. Gesù ci dice che come il buon samaritano sulla strada che andava da Gerusalemme a Gerico si fermò di fronte a quell'uomo che era incappato nei briganti e così anche noi ci dobbiamo fermare, vedere, curare, caricarci quel peso e portare questa umanità nel cuore. Questa è la misericordia. È una bella sfida, ma io sono convinto che la generosità di tanti fedeli, di tante persone contribuirà a questo e sarà un bene che è di tutti. Casa Zaccheo sorgerà in via Porta Romana dove è allocata la sede della Caritas. Lo stabile negli ultimi anni ha ospitato anche gli uffici amministrativi della ASL.